Iron PBL. Cercavo uno zaino a livello PRO sotto i 100 euro e l'ho trovato. Lui è diventato il mio zaino che uso tutte le volte che parto per una nuova avventura. Ha due tasche frontali con vari scomparti dove metto gli SSD, i cavi, i memory card e tutti gli accessori di piccole dimensioni. Due grandi scomparti dove metto camera, obiettivi, drone, controller, gimbal, filtri, microfoni, praticamente quello che voglio. In più ha una tasca posteriore per il mio portatile. Perfetto! Non si riempie mai, in più è leggerissimo e comodo.